Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio, Cesare Martignol. Lina 1 verso Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il bivio A1 variante. Si ricorda la chiusura per lavori del casello Barberino del Mugello in entrata verso Firenze durante le notti del 7 e l'8 settembre in orario 22.6. In Filippili si viaggia incolonnati per lavori tra Ginesta Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze. Sul raccordo siano a Firenze possibili disagi per una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni per lavori tra Varnelle e San Donato. A Prato, giovedì 8 settembre, in occasione del corteggio storico 2022, alcune linee di bus urbane ed extraurbane subiranno momentanee deviazioni. Tutte le info sul sito di Autolini e Toscane. A Firenze, sul viale Milton, disagi per una riduzione di carreggiata da via Leone X a Largo Martiri delle Foibe. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!